Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale nel video di quest'oggi video del sabato andiamo a vedere in FL Studio 12 come si va a regolare la velocity ovvero questo valore qui che diciamo solitamente regolabile solo nei VST integrati già all'interno di FL Studio noi andremo a vedere come si fa a regolare questo valore all'interno dei VST esterni ragazzi siccome per ogni VST esistente sulla terra c'è una metodologia differente io cerco di spiegarvi il concetto e ve lo faccio vedere come vedete all'interno del channel rack in Massive e nel Silent 1 vai con la sigla ci vediamo a fra poco nel video bentornati ragazzi dopo la sigla e siamo pronti per entrare all'interno del nostro progetto per andare a vedere che cosa ho fatto per attivare quel parametro velocity allora nel Massive ho preso la preset 4AD ho aperto il Massive ricordo per aprire il Massive add channel e andiamo a prendere Massive qui oppure aprire il vostro plugin picker e vi cercate il bellissimo Massive che in questo caso eccolo qua comunque una volta aperto il Massive andiamo a cliccare su 4EMV 4 envelope sotto la voicing dove trovate questa vocina qui 4EMV aumentiamo tutto il parametro velocity e tutto il parametro KTR guardiamo che succede vado a scrivere una nota sentite modifico il parametro sotto come vedete basta toccare queste due singole queste due singole slide questi due singoli pannellini per poter andare ad ottenere il controllo del velocity all'interno del piano roll mentre nel silent che cosa dobbiamo fare allora andiamo a sentire il silent fino a che non scompare la regolazione rispetto al Massive è molto meno precisa ma almeno così è possibile andiamo ad accedere al settore MISC 1 io ve lo faccio in MISC 2 ma tanto è la stessa cosa che già vedete in MISC 1 clic tasto sinistro velocity clic tasto sinistro volume AB in questo caso mi serve anche B perché ci sono 8 voci attive sull'oscillatore B2 se no potete mettere anche volume A o se sono presenti solo voci nella parte B e volume B e poi in questo caso andiamo a mettere mix AB io avevo messo mix A per regolarmi solo una parte dei volumi andate a settare questo così quindi vado a fare la stessa cosa di qua qui i volumi non li troverete così bassi ma dovete abbassarli necessariamente voi perché quando andate ad aumentare sotto il parametro velocity volume AB andate ad aumentare il volume generale di sistema del nostro VST quindi se questo volume qua ecco stava così io l'ho dovuto portare a questo livello per ottenere diciamo un buon risultato comunque come sentite il VST si sente più che bene adesso vado a togliere il mix 2 ok quindi funziona nel stesso identico modo ripeto da capo prendete volume dell'oscillatore A1 volume dell'oscillatore A2 in questo caso il B2 l'ho lasciato l'ho tralasciato perché bastava già la regolazione dell'oscillatore A1 e dell'oscillatore A2 lì portate giù mantenendo le proporzioni rispetto a come erano settati i volumi in precedenza ovvero se questo era settato a metà e questo era settato oltre metà allora questo da metà scenderà a così ha un valore di all'incirca 1 e questo che stava oltre magari un po' più su in questo caso poi non era così quindi io riporto tutti e due i volumi come stavano perché stavano i tempi e come vedete abbiamo attivato la nostra funzionalità all'interno del piano roll di FL Studio inoltre abbiamo un altro strumento nel silent 1 che è questo qui andiamo a vedere in questo caso non vado a regolare solamente il volume vado a regolare anche il reso e il mix in AB quindi è una modalità di velocity che è ancora più potente perché oltre la regolazione del volume quando andiamo a muovere questo slide qua sotto andiamo a regolare anche il nostro reso e il nostro mix ragazzi fondamentalmente per questo video è tutto perché mi era stato richiesto da uno di voi di fare un video tutorial sulla regolazione della velocity i miei consigli personali quali sono quando aprite un nuovo VST andate a cercarvi il valore velocity e ve lo andate ad automare o andate a cercare come ho fatto nel caso io nel mio caso nel massivo ho cercato velocity KTR nel silent 1 ho trovato il modo di andare a trovare un compromesso del velocity per poter poi andare a regolarlo all'interno del piano roll nel Nexus la modalità sarà un'altra nell'additive keys sarà un'altra ancora quindi dovete solo cercare all'interno dei VST quelle che sono le regolazioni che corrispondono alla regolazione del nostro parametro velocity io come al solito spero di essere stato il più chiaro possibile il più d'aiuto possibile noi ci vediamo in un prossimo video tutorial se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su se questo video non vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in giù e cercate il velocity per conto vostro ragazzi con questo è tutto io vi auguro buon divertimento su FL Studio 12 noi ci vediamo in un prossimo video bella ciao 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 ciao